e ciao 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 a tutti da Svideo allora ieri ci sono stati i sorteggi i sorteggi casuali per quanto riguarda il torneo di Istanbul Guys il torneo Svideo Ricchi allora praticamente gruppo A ci sono andati a finire Cristian, Tom, Pulcino, Gigi, Akram gruppo B ci sono Atakri, Moni, Giuse e Ricchi gruppo C Derek Svideo, Dinosauro, Youssef gruppo D Gemervitto, Aschi, Amedel, Cobra gruppo E Diego, Carlo, Danny, Notale gruppo F GD, QR, Reto, Angelo, Trova Casa allora quando ci saranno le prime sfide? le prime sfide vi dico la data saranno lunedì 12 agosto e poi continueranno mercoledì 12 agosto alle ore 19.20 quindi lunedì 12 agosto e mercoledì 14 agosto lunedì e mercoledì alle ore 19.20 allora quindi io chiederei soprattutto quelli del gruppo A e B di farsi trovare pronti vedremo se riusciremo a fare anche direttamente il gruppo C ma sicuramente le sfide del gruppo A e B insomma diciamo che Cristian, Tom, Pulcino, Akram, Atakri, Moni, Giuse, Ricchi insomma fatevi trovare pronti allora come saranno le sfide? Vi leggo quali sfide ci saranno nel gruppo A ci sarà prima Cristian contro Tom poi Cristian contro Pulcino Cristian contro Akram Pulcino contro Akram Tom contro Akram e infine Pulcino contro Tom Per il girone B ci sarà Atakri contro Moni poi Atakri contro Giuse Atakri contro Ricchi poi Giuse contro Ricchi Moni contro Ricchi e Moni contro Giuse abbiamo ci ha pensato Ricchi a studiare tutte queste cose in maniera che tutti i contendenti dei vari gruppi si sfidassero fra loro vi ripeto che questo torneo è organizzato da me in collaborazione con Ricchi Zovac Ninja allora diciamo anche che dovete cercare di raggiungere i tre punti perché facendo i tre punti nel girone ossia si riesce a vincere tre vincendo tre round si riesce a raggiungere i tre punti comunque insomma dopo di questa cosa ne parleremo questo video era soprattutto per dirvi insomma i gruppi che magari qualcuno non li aveva visti magari l'altro giorno magari non aveva visto live dei sorteggi comunque la live è ancora lì ve la potete guardare quando volete perché è stato molto divertente il sorteggio dove era tutto bendato eccetera comunque questi sono i gruppi e vi ripeto lunedì sicuramente gruppo A e gruppo B vediamo 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 quello che riusciamo a fare quindi lunedì prima data è lunedì 12 agosto ore 19 e 20 inizierà il torneo vi voglio belli carichi ciao ciao